A favore delle popolazioni colpite dall'alluvione, la Lega Nord che cosa chiede all'interno della legge di stabilità? Noi in legge di stabilità abbiamo ripresentato un emendamento che abbiamo presentato più volte, che il Partito Democratico ci ha sempre bocciato e speriamo che questa sia la volta buona. Chiediamo che gli investimenti e le spese fatte dalle regioni non debbano venire a far parte dei vincoli del pareggio di bilancio perché crediamo che gli interventi rispetto alle calamità naturali in funzione di tutelare le popolazioni colpite non debbano prevedere alcun vincolo. Per cui noi chiediamo questo al Governo e ci aspettiamo che, vista la situazione che è grave in tutto il Paese, ci sia un appoggio totale anche da parte della maggioranza.